bene ragazzi qui lorenzo e oggi siamo su un nuovo video oggi andiamo a giocare a son gold iniziamo ragazzi se fa così e niente allora possiamo iniziare questo nuovo che questo non è un gameplay da mo che ce l'ho da tanto è tutto normale se a me fa così ok è quasi tutto normale vabbè almeno la più importante continuiamo ragazzi ecco qui stongo l'hd ok iniziamo e facciamo una costruzione libera e ci inventiamo la nostra una nostra missione posiziona una fortezza per creare il tuo castello ok io scegno la rocca forte aspettate in questi casi c'è bisogno di questo un attimo il nome deve essere deve essere deve andare fino a cento ok perfetto adesso nel frattempo ragazzi conosco un trucco se fate questa missione e volete farvi delle truppe vostre oppure volete volete morire oppure volete anche come dire volete aspetta non so il termine volete combattere con le all e zuppe del lato del lupo del magliare del serpente e nel suo f 1 un attimo ragazzi torno subito Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Adesso dovrei fare per forza così. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo.